Grazie, sono Dauno, è mia amica Dariara, adesso sono a Ureno, adesso siamo davanti di negozio di giocattolo, guarda, è macchina di pallina, figlio che cosa ti piace, ti interessa? Sì, è un po' difficile scegliere, in Giappone ci sono tante macchine come questo, se vieni in Giappone, a Tokyo, puoi giocare, puoi vedere, ciao ciao!